Ehi Carla, quando hai controllato la flebo della signorina Rack della 310, potresti correre alla mensa e flirtare con il dottor Chiappedoro? È vero, ho flirtato un po' con lui, ma non sai che cotta avevo per quel tizio. E poi anche tu, Flirty, non c'è niente di male. Premo il suo bottone. Non saprei, io posso premere il suo. A volte un po' di male c'è.